Come avete già visto, se l'avete costruita, l'Arduino, il Merduino, perdon, ha un processore che ha un microcontrollore che va appunto programmato. È disponibile una IDE per la programmazione che è open source, è gratuita e comincia a essere anche molto ficca e il compilatore che poi vi permette di uploadare il firmware direttamente dentro il microcontrollore e fargli fare più o meno quello che vogliamo. Per scaricare e installare l'IDE ci sono due modalità, una per quelli che ci sono all'ESC e una per quelli che non ci sono. Partiamo da quelli che non ci sono all'ESC, quelli che non ci sono all'ESC possono andare alla pagina wiki.pinguino.cc index.php-linux, cioè quella che vedete scritta là e da là hanno tutte le istruzioni per le varie distribuzioni di Linux per installare l'IDE. per scaricarla si scarica attraverso Subversion, un SUN, è abbastanza impegnativa, sono circa 360 MB e rotti, per cui noi volevamo farvi un regalo, abbiamo messo l'IDE, caricato l'IDE all'IDE all'interno dell'FTP anonimo che lo trovate all'indirizzo 10.156.0.50 dentro la cartella ESC-2K2012 e scaricate il pacchetto pinguino x.3rev399.tar.gz cioè quello che vedete lì sotto. una volta scaricato questo pacchetto basta decompattarlo all'interno della cartella e installare tutte le varie dipendenze attraverso il comando che abbiamo messo per Ubuntu 11.10 che è questo, vale anche per il 10.4 quindi con sudo apt-get install subversion ia32-libs potete anche fare almeno di installarla python usb no, python vx gtk2.8 va installata lib32 gmp3-dev potete anche fare almeno di installarla lib32 mpfr4 anche questo e python-svn invece va installata quindi quelle che hanno le lib32 sono praticamente per la versione a 32 bit del merduino che sarà molto probabilmente in uscita dopo natale, pasqua o forse ferragosto del... forse a febbruglio del 2007 allora tutte quelle che hanno la scritta 32 sono molto importanti e molto fiche però potete anche fare almeno di installarle ecco, così abbiamo risolto il problema quindi se lanciate questo comando intanto vi portate avanti con le dipendenze una volta installate queste cose e andate all'interno della cartella dove avete decompattato pinguino x3 rev99.tar.gz e all'interno della cartella trovate un po' di file tra i quali il più importante è... quello che vi da più attenzione è... pinguino.py la trovate anche su... wiki.pinguino.cc index.php linux benissimo allora... se entrate all'interno della cartella che avete decompattato potete lanciare l'idee con il comando sudo python pinguino.py sudo è necessario in questa fase perché così avete i permessi per scrivere su USB se siete bravi potete darveli darli anche al vostro utente ma non è questa la sede per dirvi come quindi se lo fate da super user va bene ugualmente una volta che l'avete fatto poi facciamo... intanto andiamo avanti velocemente anche per la registrazione ciao a tutti e poi magari facciamo passo passo il workshop su come installarlo una volta che avete lanciato quel comando avrete questa IDE che è un'IDE ficchissima con queste icone qua questa soprattutto aprite i file poi un'altra che vi sarà sicuramente interessante è questa che serve per compilare il listato che scrivete qua e questa serve per uploadare il compilato all'interno all'interno del microcontrollore una cosa importante qui potete scegliere la piattaforma insomma per quale microcontrollore andate a compilare il nostro merduino è in realtà un pinguino 2550 quindi dovete scegliere questo prima di farla partire e a questo punto possiamo prendere un merduino in mano questa versione particolarissima del merduino ha due pulsanti sopra uno c'è scritto RESET il pulsante RESET serve a mettere la board in modalità bootloader messa in modalità bootloader rende possibile caricare il firmware all'interno del microcontrollore la schiacciate avete tre secondi di numero per fare l'upload dopo tre secondi lo sketch o il programma chiamatelo come volete in qualche parte e esegue le cose allora durante dopo l'introduzione faremo il un esempio vi descrivo brevemente vi descrivo basic blink 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 pda allora brevemente i programmi sono hanno due funzioni principali che sono quelle più importanti che è quella di setup che è void cioè non ritorna nessun risultato e quella di loop che anche questa è void non ritorna risultati e serve a a iterare al ciclo principale nei setup invece andiamo semplicemente a eh si a inizializzare la l'applicazione eh qua particolarmente questo qua è lo sketch proprio base è l'hello world del mondo eh del dell'elettronica dei microcontrollori cioè il led che blinca per far linkare un black per far blincare un led bisogna innanzitutto eh inizializzare il ping che eh in modalità output o input ovviamente eh in modalità output sarà un pin di output e viceversa qua abbiamo fatto qualcosina di più cioè abbiamo eh definito una costante ping che è il ping 13 è una cosa che in programmazione si fa spesso e aiuta molto perché poi basta cambiare il basta cambiare eh il ping del riferimento e non serve modificare tutto lo sketch eh il ping esce il 12 che esce il 12 e quindi noi andiamo a mettere sul 12 ecco qua allora una volta modificato visto verificato eccetera possiamo mandare in compilazione lo sketch eh il programma qui sotto avete eh qui vi da delle utili informazioni una volta compilato bisogna mandare in modalità bootloader si spegne la lucina abbiamo 3 secondi e resta acceso no no si spegne eccetera eccetera togli abbassi il delay vabbè temporeggio benissimo e rifacciamo un'altra prova mettere in modalità bootloader sul ping zero ok compiliamo eccolo qua eccolo qua il merdolino viene distribuito con dei comodi con delle comode vittine dei comodi connettori a vite che noi non stiamo utilizzando perché siamo in modalità cazza parola senza cacciavite senza cacciavite cacciavite free o cacciavite less e boh questa qua è la la cosa la cosa la cosa la cosa base sul quale poi faremo il workshop cioè l'installazione di questa idea lo sketch base che è il blink l'hello world insomma e le varie modifiche che possiamo farci se ad esempio vogliamo che il 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 led blinchi con una velocità diversa possiamo modificare il delay mandarlo in compilazione e riaploadarlo e lui blinca con una una velocità diversa questo è quello base da qua che cosa che cosa è stato fatto da soprattutto dal grande e buon zippo che si è messo in copyright stretto e vincolante a vita e ha abbiamo cercato fatto di creare un un mini protocollo che permetta praticamente di non dover riflessare il firmware del merduino ogni qualvolta ci serva accendere o spegnere un link o comunque usato o comunque usarlo insomma con linux questo protocollo attraverso delle chiamate dirette all'usb quindi questo è un altro un'altra diversità abbastanza importante tra il merduino e l'arduino l'arduino comunica con una serie attraverso l'usb ma come una porta seriale voi quando siete quando attaccate un arduino al vostro computer molto probabilmente per parlarci insieme dovete andare sulla tty usb 0 1 o quello che è qui invece andiamo a parlare andiamo a scrivere e leggere direttamente dall'usb è una cosa un po' più advanced ma è molto più figa perché puoi leggere e scrivere in diciamo in maniera anche concorrente tutta una serie di robe fighe allora per fare questo per fare questo c'è un protocollo che poi del quale poi troverete tutte le specifiche sul sul sito dell'esco e e troverete anche lo sketch base sia sull'ftp che che sul sito da questo noi abbiamo scelto l'ua l'ua come come linguaggio di alto livello interpretato che ha un footprint proprio basso molto veloce e molto performante e con questo possiamo vedere un esempio di come poi viene implementato il protocollo di comunicazione col merduino il merduin protocol e come si possono fare delle cose veramente interessanti come un alcol test per una festa che ti può cambiare la vita allora l'ua l'ua è una delle mie prime personali esperienze con questo linguaggio ha diciamo una sintassi particolare e ha anche qualche lato oscuro detto questo ti permette di sviluppare in maniera abbastanza veloce e indolore soprattutto per i sistemi embedded cioè tu scrivi il codice una volta sola non devi compilarlo per architetture diverse perché c'è l'interprete che esegua il codice sarebbe tutto molto bello se non fosse che per parlare con l'usb l'ua ha bisogno di un binding per l'ua per l'usb e che va compilato per le diverse architetture quindi già questo è un po' un controsenso e porta via tempo e fa cadere un po' almeno dal mio punto di vista gran parte di quelli che dovrebbero essere i vantaggi dell'usare l'ua ma siamo partiti così siamo andati avanti così quindi qui insomma all'inizio viene richiamata questo binding per l'usb e viene praticamente c'è una funzione che trova il merduino ecco ecco la cosa importante qui è che l'id del vendor e il product id sono sono quelli che vedete qui e che vi serviranno sia in lua che in python che probabilmente in c per riconoscere la periferica e per poi parlarci insieme viene praticamente identificato un handler l'handler che viene che poi è utilizzato sia per le scritture che per le letture vediamo semplicemente un esempio di come si va a scrivere sull'usb ok la funzione viene richiamata semplicemente passando a una variabile find merduino ok e merduino qua ci sono dei controlli per capire se il merduino c'è o non c'è mega ping can fix the issue nel caso in cui non non ci sia ecco la funzione che ti permette di scrivere su arduino su merduino è questa questa e questa in cui andiamo a eh mandargli questa stringa che viene riconosciuta dal dal programma sul merduino e serve a settare i vari ping e in modalità output o input ecco detto questo poi qua vengono fatti dei calcoli ecco perché usare l'ua perché ho un programma esterno al merduino perché così si riesce a spostare tutta ehm la difficoltà e la pesantezza dei calcoli dal microprocessore che poverino fa quello che può a sistemi embedded un po' più ehm performanti e più ehm collegati a internet e soprattutto collegati a internet si boh io penso che possiamo chiudere la presentazione e parla del suo protocollo si passo la parola a Mastro Gippo l'autore del Merduin Protocol che ci spiegherà come funziona allora ehm due parole velocemente andiamo sul sorgente qui allora praticamente ehm il protocollo è formato in genere da ehm una stringa di di solito tre caratteri ma possono essere anche di più se ci siano dei parametri una stringa che comincia con la U maiuscola il primo carattere deve essere una U maiuscola il secondo carattere si riferisce al PIN che a cui vogliamo parlare quindi per esempio se devo parlare al PIN 0 scrivo 0 se devo parlare al PIN 10 scrivo A e segue il contatto decimale quindi 0123456789 abcdf e la terza lettera dice cosa far fare quel PIN allora se è una S minuscola il PIN viene settato in modalità input se è una S maiuscola viene settata in modalità output poi ci sono delle cose varie per esempio la V serve per collegare un servomotore che in questo caso abbiamo usato per implementare la freccetta ha un PIN quindi con la V si setta un servomotore mentre in questo caso con la V maiuscola e tre cifre successivamente possiamo settare la posizione del motorino qui siamo sulla lettura ovviamente dopo vediamo anche la parte lua con la N si inverte un PIN sia N maiuscola che N minuscola con la V minuscola si scrive un PIN e si mette a livello basso con la V maiuscola invece si mette a livello alto R maiuscola legge un segnale analogico da un PIN anzi R maiuscola legge un segnale digitale da un PIN e A minuscola o maiuscola legge un segnale analogico Resta al lettore l'esercizio di implementare la comunicazione seriale i quadro C o SPI anzi cerchiamo vi incoraggiamo a ampliare il protocollo anche perché è tutto software libero a parte il protocollo in cui lui prende un sacco di soldi a ogni uso vediamo un paio di esempi qui abbiamo fatto l'IWSB BulkWrite il prototipo di questa funzione è Handler cioè il primo parametro passato è l'Handler 0x01 è l'Handpoint che è un parametro speciale USB che approfondiremo su dei libri in questo caso 0x01 resterà sempre 0x01 questa è la nostra stringa quindi la U maiuscola iniziale la S per settare il pin in input e la D che in eser decimale è 13 per dirgli cosa fare con quel pin quindi setto in input il pin 13 il 3 è la lunghezza della stringa quindi sono 3 caratteri e 0.1 è il timeout e dopo questo timeout l'UA darà errore in questo caso invece colleghiamo un servo quindi con la V collego un servo e la C in eser decimale è 12 quindi ho collegato un servo al 12 e successivamente lo porto a casa cioè rimando il servo alla posizione home cioè alla posizione 0 della freccia in questo caso e quindi scrivo U maiuscola iniziale V maiuscola per settare il servo C perché è il servo sul pin 12 050 perché la posizione è 50 del servo le posizioni le troviamo sperimentalmente io qua per esempio ho scritto 4 righe per metterle in diversi posti per mettere il servo in diversi posti e poi segnarmi dove mettere le freccettine per creare questo bellissimo grafico ci sono delle domande? va bene adesso ma io direi che possiamo chiudere la presentazione mettere le mani nello sporco e cominciare a installare l'idea per cui se vogliamo possiamo anche chiudere la registrazione salutare tutti gli amici che ci seguono da casa ricordarci che tutti i soldi del Merduino verranno devoluti all'organizzazione dell'ESC costa poco, è fighissimo e ci siamo divertiti molto abbiamo imparato un sacco di cose possiamo chiudere? grazie